L'Osservatorio ha anche uno sguardo importante sull'Europa, sul resto dei paesi europei che vanno al voto insieme all'Italia, proprio sulle elezioni al Parlamento di Bruxelles. Le dinamiche di campagna, la comunicazione è lo stesso anche per quanto riguarda i media mainstream, cioè è l'uso massiccio della TV, della carta stampata e della radio che vince in Europa o ci sono altri trend in altri paesi europei? Dunque, la dimensione europea è particolare. Per quanto riguarda il nostro paese possiamo dire che in realtà noi abbiamo sempre visto e non fa eccezione quest'ultima campagna una nazionalizzazione della campagna europea. Cioè, quando si fa una campagna per le elezioni europee si tende inesorabilmente a parlare del contesto nazionale, degli equilibri nazionali e addirittura dei possibili esiti, ripercussioni che il voto europeo potrebbe avere sulle dinamiche di governo. Addirittura, anche in questo caso, Beppe Grillo, l'attore nuovo per eccellenza di queste competizioni, ha in realtà ripresentato una ricetta molto vecchia, potremmo dire classica di tutto, del contesto italiano. Vale a dire, se diventiamo primo partito, se vinciamo, Renzi si deve dimettere e andremo noi al governo. Non è, bisogna dire, che negli altri stati europei si parli massicciamente di Europa e ci sia un dibattito sull'Europa, come dire, che la campagna elettorale sia totalmente, verta totalmente sulle dinamiche europee. Questo, però, in realtà, in alcuni paesi, per esempio la Francia, oppure Spagna e la stessa Germania, il dibattito sull'Europa ha alcuni elementi, alcune dinamiche che non esistono nel nostro paese. Il fatto che si sia, per esempio, votato per la Costituzione europea in alcuni stati e che quindi ci sia stato pregresso, ci sia pregresso un dibattito, uno schieramento tra partiti fortemente contrari all'Europa e partiti invece più europeisti, fa sì che in questi stati la dimensione europea, l'essere favorevoli o contrario all'Unione europea, entri maggiormente nella campagna elettorale. Basti pensare, hanno votato giovedì, quindi ieri, hanno votato già Olanda e Gran Bretagna. In questi paesi ci sono dei partiti anti-europeisti, cosiddetti populisti, che sono accreditati di buoni risultati, vedremo, lunedì con lo spoglio dei voti. In Francia, per esempio, c'è un partito che è il Front National, prima guidato dal padre e adesso dalla figlia Marine Le Pen, che è fortemente anti-europeista. E quindi questa dimensione dell'anti-europeismo mette in campo in realtà un dibattito più articolato sulla dimensione europea. In Italia abbiamo soltanto alcune voci no-euro che però in realtà non arrivano a definirsi in maniera più concreta come partiti completamente anti-europeisti e che non mettono in ogni caso al centro della comunicazione gli attori europei o le istituzioni europee. Grazie a tutti!